benvenuti al corso di formazione presentazione digitale conservazione della cucina rituale europea modulo 2 teoria e pratica di base fondamenti teorici del video tipi di videocamere e apparecchiature questa lezione mira a fornire agli studenti le nozioni e i concetti di base relativi alle basi teoriche del video al termine della lezione gli studenti sapranno realizzare tipologie di videocamere e attrezzature grazie ai progressi della tecnologia e alla crescita del fenomeno nel settore della fotografia esistono molti tipi di videocamere a tutti i livelli di budget forme e dimensioni e di seguito viene presentata una rapida panoramica dei tipi di videocamere disponibili oggi sul mercato gli smartphone con videocamere integrate sono in fondo alla catena tecnologica delle videocamere la maggior parte degli smartphone di fascia alta come alcuni modelli android iphone e nokia hanno videocamere soddisfacenti in grado di girare video ad alta definizione le videocamere di uso comune si riferiscono a semplici videocamere progettate per un uso personale non professionale l'altra caratteristica delle fotocamere di uso comune è che sono più piccole e più semplici da usare la maggior parte di esse sono infatti completamente automatiche le fotocamere semi professionali si trovano a metà strada tra le fotocamere di uso comune e le fotocamere professionali sono le telecamere con forme più piccole rispetto alle telecamere professionali che sono più grandi e che di solito sono montate sulle spalle e vengono utilizzate per produzioni televisive ad alto budget queste telecamere sono caratterizzate da tre distinti fattori che andiamo ad elencare le fotocamere super chip hanno tutte chip di imaging più grandi delle tradizionali videocamere professionali il secondo fattore che distingue le videocamere super chip è il fatto che sono dotate di obiettivi intercambiabili il terzo fattore distintivo è il prezzo la dslr digital single lens reflex è fondamentalmente una fotocamera reflex digitale dotata della capacità di acquisire video hd di alta qualità hanno obiettivi intercambiabili che consentono una maggiore flessibilità creativa rendendo possibile l'utilizzo di obiettivi di prima classe se te lo puoi permettere mentre sei fuori con gli amici e ti diverti un cellulare è sufficiente per immortalare la tua uscita quando c'è un evento su larga scala come una conferenza aziendale una festa importante familiare come un matrimonio o un fidanzamento da girare professionalmente l'attrezzatura per la videoregistrazione è quasi obbligatoria il treppiedi è un'attrezzatura necessaria per mantenere le tue riprese stabili e professionali prendi un treppiede con una testa se movibile e leggero possibilmente in alluminio la luce per fotocamera a volte un bel tocco di luce dalla fotocamera può aiutare a combattere qualche brutta ombra una luce per fotocamera è un bel accessorio da avere soprattutto durante un documentario o servizio di notizie in cui potresti non avere tempo per un'illuminazione completa da tre punti kit di illuminazione a tre punti hai davvero bisogno di un kit di illuminazione solo se hai intenzione di fare molte riprese all'interno la creazione di una scena ben illuminata di solito comporta una configurazione dell'illuminazione a tre vie il microfono shotgun un audio eccezionale spesso separa i professionisti dai dilettanti avere un microfono shotgun ti prepara a quasi ogni situazione è perfetto per posizionare un'asta telescopica sulla parte superiore della fotocamera l'utilizzo del microfono a braccio è utile per catturare l'audio da un'intervista di gruppo scene di folla o qualsiasi situazione in cui è necessario raccogliere rapidamente audio professionale oltre all'asta del braccio avrai bisogno di un shock mount e di un microfono shotgun ecco un semplice gadget necessario per trasformare il tuo microfono shotgun in un microfono con asta un supporto antiurto che mantiene il microfono fermo sulla parte superiore dell'asta e impedisce al microfono di captare suoni di urto quando l'asta si muove cavi audio xlr se prevedi di utilizzare una configurazione audio professionale con la videocamera avrai bisogno di cavi xlr per passare dalla videocamera al microfono microfoni wireless certo puoi usare un microfono cablato che è un po meno costoso ma non andrai a girare un documentario senza il mio microfono wireless a meno che tu non abbia una persona addetta all'audio e in grado di tenere un microfono ad asta questa è la cosa migliore che offre molta flessibilità per le interviste walk and talk con i tuoi soggetti cuffie ottenere un audio eccezionale significa monitorare il suono in ogni momento durante le riprese trova un paio di cuffie comode e di buona qualità per assicurarti di evitare di avere brutte sorprese audio quando torni dalle riprese pannelli riflettenti questo è un articolo indispensabile per il tuo kit per la realizzazione di documentari un riflettore di luce può trasformare un brutto scatto dall'aspetto amatoriale in una scena dorata e splendidamente illuminata obiettivi grand'angolo obiettivo protettivo trasparente polarizzatore obiettivo zoom macro eccetera hai mai visto quelle fantastiche scene realizzate con un fisheye questo deriva dall'uso di uno speciale obiettivo grand'angolare se stai scattando in situazioni molto soleggiate un filtro nd o un polarizzatore circolare possono migliorare notevolmente l'immagine o che dire dei super primi piani di un insetto o di un fiore in questo caso avrai bisogno di un obiettivo macro batterie extra non vorrai mai rimanere con le batterie scariche durante le riprese a meno che tu non stia andando in amazzonia 3 a 4 batterie extra dovrebbero essere sufficienti per la maggior parte delle situazioni di ripresa videocassette schede di memoria flash o dvd a seconda della fotocamera avrai bisogno di registrare tutto il filmato che girerai dischi rigidi esterni un disco rigido portatile è utile se hai intenzione di fare molte riprese sul campo e devi scaricare le riprese dalle schede di memoria della fotocamera punto ci piacciono da morire i dischi esterni robusti borsa per videocamera o fotocamera ovviamente ora che hai tutta la tua attrezzatura hai bisogno di qualcosa di robusto e resistente alle intemperie per portarla con te molte e ottime scelte in questo caso scegli qualcosa che ti piace e che si adatta al tipo di riprese che intendi fare il corso è stato realizzato dal consorzio del progetto eurica finanziato dal programma erasmus plus grazie per l'attenzione